Il segreto, Severo torna per vendicarsi, anticipazioni spagnole, protagonisti assoluti delle puntate spagnole del segreto sono Cristobal Garrigues e Severo, il quale metterà in scena una tragedia che prevede la sua morte e quella di Candela, i due si allontaneranno da Puente e Viejo, allo scopo di fuggire dalle grinfie del figlio di Salvador Castro, ma il Santa Cruz dimostrerà ancora una volta di essere una persona con grande potere, tanto che tornerà Puente e Viejo pronto a cercare vendetta affiancato da Donna Francisca e Carmelo, al fine di distruggere Cristobal, prima parte, terrore a Puente e Viejo, nel corso delle ultime puntate il segreto andate in onda su canale 5 i telespettatori hanno assistito all'arrivo di Cristobal Garrigues, con il tempo quest'ultimo deciderà di rivelare la sua vera identità, annunciando di essere il figlio di Salvador Castro, nonché fratello di Pepa, l'uomo non si è fatto molti amici a Puente e Viejo e tutti i cittadini iniziano a temerlo, ad affrontarlo ci ha pensato Severo Santa Cruz, che come sempre ha dimostrato il suo potere, ma ben presto i due dovranno affrontare non pochi conflitti, sebbene Cristobal si è giunto a Puente e Viejo esclusivamente per vendicarsi di Donna Francisca, porterà comunque terrore a diversi protagonisti della telenovila spagnola, tra questi, dovranno difendersi dalla furia del Garrigues, i Santa Cruz, seconda parte, Severo e Candela fingono la loro morte, Candela resterà incinta e trascorrerà i nove mesi di gravidanza in serenità, Severo sarà molto contento di diventare padre, soprattutto dopo aver perso la possibilità di diventare zio con la fine della gravidanza di sua sorella Sul, ma moltissimi eventi e le tante minacce di Cristobal, porteranno Severo a prendere delle decisioni importanti, che potrebbero cambiare la sua vita prima di ogni cosa mettere in scena la finta morte di Candela e del loro primo figlio, tutti soffriranno per la morte della pasticcera, ma non sapranno che si tratta di un piano del Santa Cruz, Carmelo sarà poi costretto a fingere l'uccisione di Severo, in modo che anche quest'ultimo potrà allontanarsi insieme alla sua famiglia, pur di non essere attaccato dal Garrigues, ultima parte, la vendetta di Severo, Carmelo vivrà insieme a Cristobal alla mia e la marga e qui dovrà sottostare ad ogni suo ordine, in realtà il Lil sarà in combuta con il Santa Cruz, infatti, Severo tornerà a Puente e Viejo e chiederà l'appoggio di Carmelo e di Donna Francisca al fine di distruggere per sempre Cristobal, lo scopo di Severo sarà quello di vendicarsi per tutti i problemi che il Garrigues causerà alla sua famiglia e a tutti i cittadini di Puente e Viejo, il figlio di Salvador Castro si dimostrerà molto più cattivo di quanto i telespettatori si sarebbero mai aspettati, al punto che costringerà Carmelo a commettere dei gesti orribili, come quello di innescare una bomba nella chiesa in cui ci saranno Raimundo e Donna Francisca, ma Severo sarà pronto a fare giustizia con le sue stesse mani, riuscirà il Santa Cruz a riprendere la sua vita insieme a Candela e a Carmelo alla mia e la marga, Cristobal non è un personaggio che può essere facilmente ambientato, come scoprirete attraverso le trame spagnole del segreto.